I Giovanardi che però Naspetti ha rintuzzato abbastanza bene, si stanno toccando Tocca ora, Giovanardi affianca, che vediamo una parte dell'alentone che sbola Grande duello, ha sportellato e fra Naspetti e Giovanardi, e Giovanardi passa Giovanardi al comando, vuoto del pubblico Giovanardi è riuscito con un'azione estremamente decisa ad avere la meglio su Naspetti